come va ora fratelli vi esorto a tener d'occhio coloro che propagano le divisioni e gli scandali in contrasto con quanto non vi sia stato insegnato allontanatevi da loro essi non sono al servizio del nostro signore ma del proprio ventre e con dolci lusinghiere parole seducono il cuore dei semplici presto il dio della pace stritolerà satana sotto i vostri piedi siate saggi nel bene ed incontaminati dal male comunque comunque vi volevo parlare della manutenzione la manutenzione del mezzo per questo mio specifico simpatico prolifico ce le ho tutte scritte perché la mia capacità neuronale si sono 100 miliardi di neuroni con un numero infinito di sinapsi però la mia capacità è quella di 10 giga capito cioè dovrei praticamente per dovrei fare spazio eliminare un po di dati e fare un update e quindi me li sono segnati perché non me li posso ricordare tutti quanti detto questo io non sono un meccanico cioè in più non ho neanche il garage no non avendo il garage non hai neanche la possibilità magari di avere una serie di attrezzi che potrebbero sollevare alcuni semplici lavori tuttavia se vedo il meccanico in operazione perché alla fine non è difficile se vedo il meccanico in operazione riesco poi a fare alcune cose ma smontare già per il cambio dell'olio è un casino è veramente un casino cioè devi andare sotto proprio un casino e poi c'è il meccanico cioè quanti vanno al panettiere perché non sono capaci di farsi il pane capito cioè inutile star lì e menarsela ognuno ha una propria sede e quindi facciamo girare l'economia e se c'è il meccanico vado al meccanico in più permettete di farvi vedere non avendo se sono fortunato che parcheggio sempre nello stesso posto allora it's ok ma altrimenti dovrei andare qua sotto no e andare lì sotto è veramente un disastro è un po un casino cioè sì ci sto però dai cioè devo devo quando c'è il meccanico a disposizione adesso non è disponibile però insomma manutenzione permettetemi metto gli occhiali la manutenzione programmata che deve essere svolta pausa le gomme termiche le gomme termiche se permettete il mio commento non hanno senso se tu hai un 4x4 le gomme termiche non hanno senso capisco le catene perché ti possono tirare fuori da altre situazioni ben peggiori io infatti le catene non le ho però le dovrei prendere ma se ero a Livigno dove vivevo prima posso ancora no però con il 4x4 cioè vai abbastanza da tutte le parti fino a quando non ti si spanano i denti come era successo a me tempo fa al contrario di questo le gomme termiche non hanno senso ho già cambiato dalle gomme cama che erano originali le ho cambiate perché non mi sembravano molto valide alla fine invece devo dire che andavano bene le ho cambiate con un altro set di gomme che pensavo che non andassero bene invece sono entrato dentro al fiume con i rock dentro e andavano benissimo le ho cambiate poi ancora con delle globetrotter con i dentoni modello cararmato che andavano bene anche quelle ma un po troppo rumorose se fai dei lunghi viaggi e comunque se fai strada strada normale difatti le ho ancora però le ho smontate e ne ho messe 4 winter extreme che devo dire fanno benissimo la loro parte tuttavia se non metto le ridotte per fare quella salita che c'è lì non ce la fa così come con queste così come con tutte le altre che avevo ne ho provate 4 paia 4 paia con queste e ho visto che con tutte se non mettevo le ridotte quelle lunghe le 4x2 la macchina non saliva quindi con le termiche funziona esattamente nella stessa maniera detto questo passiamo alla manutenzione programmata che come ho detto poco fa me le sono segnate perché altrimenti non me le posso ricordare proprio per via dei miei only 10 gigabyte a disposizione il primo tagliando si fa quindi a 5 mila chilometri con la ve le leggo con la sostituzione dell'olio motore l'olio del cambio l'olio riduttore l'olio differenziale anteriore posteriore ingrassaggio generale controllo manicotti dell'acqua tubazioni benzina controllo del livello del liquido di raffreddamento tiraggio di tutti i bulloni di carrozzeria ponte tiranteria e alberi di trasmissione molto importante questo qua controllo olio servosterzo controllo freni controllo cinghie servizi e relativi tenditori tiraggio rumori questo dopo i primi 5000 chilometri questi lavori vengono rifatti periodicamente in un uso normale ogni 10.000 chilometri la sostituzione del filtro dell'aria ogni 20.000 chilometri lo stato dei manicotti dell'acqua ogni 25.000 chilometri ancora controllo questo qua ancora non gli sembra che vadano la sostituzione olio differenziale posteriore ogni 45.000 chilometri oppure tre anni infatti io sono a 45.000 chilometri e ho tre anni filtro della benzina uguale 45.000 chilometri sostituzione delle candele ogni 50.000 chilometri quindi ci siamo quasi in effetti a volte non è che manca però le candele le senti subito quando mancano manca la scintilla no infatti sento che a breve le dovrò cambiare la sostituzione candele tutte queste tutti questi taglianti tutte queste sostituzioni vengono diminuite il chilometraggio viene diminuito se per caso usi l'automobile a livello più gravoso ovvero appunto off road tiri le marce capito se tiri il motore ho visto un video dove c'è un personaggio che tira la macchina ai 120 120 chilometri orari ma questa non è una macchina da andare veloce cioè se vuoi una macchina che vuoi farti vedere che va veloce non è questa con questa qua vai regolare tranquillo 80 chilometri orari a volte quando devi fare lunghi percorsi come mi è capitato più spesso da qui all'italia da qui in puglia è stata lunghissima però alla fine ci arrivi piano piano no se non hai la moglie che ti stressa la vita quando arriviamo manco guidasse lei allora insomma te la prendi con calma e arrivi tranquillo e beato però ti dico una macchina vi dico è una macchina con la quale vai piano vai regolare vai tranquillo è vero se tu hai un un altro van puoi arrivare a velocità superiori 120 130 140 chilometri orari però con questa qua anche perché se con questa superi gli 80 all'ora hai finito la benzina è così dopo gli 80 questa io la tengo fino agli 80 a volte vado fino ai 90 all'ora però non è se sei in autostrada a volte è un po lanciata e la andare fino ai 90 tanto per sai ripulirla un po però non è da non è una macchina da tirare the set non è una macchina a tirare ma continuiamo con i nostri sostituzioni manutenzioni italiani sostituzione olio del cambio ogni 75 mila chilometri controllo ganache posteriori ogni 60 mila chilometri olio freni ogni quattro anni liquido antigelo quattro anni pompa frizione sostituzione ogni quattro anni sostituzione olio sterzo ogni quattro anni al contrario se invece e hai un uso gravoso comunque rimane sempre ogni quattro anni più o meno questi ultimi dai freni liquido antigelo pompa frizione olio sterzo ogni quattro anni e insomma ci sono parecchi parecchie manutenzioni da fare e sostituzioni da eseguire detto questo queste sono quelle a parte di altre tipo il gas che la guarnizione della testata che perdeva olio non ho visto ho fatto un piccolo controllo ma avevo già pubblicato perdeva olio quindi si era già consumata la frizione per adesso funziona il freno ha avuto dei problemi l'acceleratore pure il freno aveva dei problemi perché schiacciavo mi rimaneva bloccato il meccanico in un attimo me l'ha sistemata cioè capisci perché c'è il meccanico poi questo qua sa davvero bravo devo dire poi lo vedi cioè se dopo un po di giorni hai nuovo un altro problema vuol dire che il meccanico non è stato all'altezza però per dire adesso mettiamo le corne però capito questo qua che me l'ha messo con il freddo il gelo che c'è stato urla il vento scende la bufera scarpe rotte pur bisogna andare e insomma ho detto ma speriamo che l'abbia montato bene però in effetti con la neve che c'è stata e quant'altro il tetuccio tenuto e quindi devo dire sa il suo mestiere al contrario invece quando l'ho portata alla tarmot cioè se devo io ogni volta che sento la musica e devo guardare come mi hanno messo le casse le casse che mi hanno messo mi viene un cristo capito dai no ma come fai a mettermi delle casse così in una ancora le devo cambiare lo so così tieni sempre il mezzo in update queste sono le manutenzioni comunque che sono da fare permettetemi che vediamo se ce n'ho ancora qualcuna i pezzi di ricambio i pezzi di ricambio i pezzi di ricambio i pezzi di ricambio io ho scritto in russia per farmi avere alcune cose o per avere delle informazioni non mi hanno mai risposto anche perché se comunque arrivano dalla russia devi pagare la dogana se le puoi ordinare in polonia io le ordino qua in polonia però la tarmot per esempio con il cambio il gear che mi si era spanato mi avevano fatto un prezzo ho aspettato tre mesi più di tre mesi ho aspettato perché questo pezzo arrivasse guarda caso quando è arrivato il prezzo era aumentato era aumentato cosa vuoi fare lo vuoi prendere e per forza che lo prendo sono tre mesi che aspetto testa lo prendo sì no vaffan non ti sembra un po caro e lo so ti posso scendere hai capito va bene allora scendimi un po il prezzo comunque lo prendo ugualmente non erano questi i patti comunque alla fine è preso e fanculo ma non erano i non era stato il prezzo che era sta questo è una cosa la quale devi devi prendere in considerazione devi aspettarti purtroppo va così anche perché hai la whatsapp te la sei comprata si sono quelli my friend take it or leave it cos'altro a oppure te li puoi far mandare dalla repubblica cieca bravo ragazzo alexander sempre molto disponibile alla fine deve vendere e quindi ti vende di tutto però bravo devo dire bravo mi ha mandato tanti pezzi ho pagato anche una bella botta per la spedizione fuck it però alla fine mi servivano questi pezzi li volevo mettere e via per la ruggine per la ruggine allora i casi possono essere due o fai appunto lo sverniciamento e poi l'insabbiatura oppure ci sarebbe questa opzione però aspetto ancora a farla e sarebbe il rivestimento plastico capito c'è questo rivestimento della grafica che vuoi e ti coprerebbe tutta la macchina è un lavoro molto più veloce molto meno costoso e ti fa il lavoro che deve fare e non solo ma hai anche una grafica a disposizione che che forse però colorarla hai più chance no hai più scelta nei colori però ti costa anche molto di più e comunque devi fargli l'insabbiatura eccetera sarebbe l'opzione migliore però se vuoi risparmiare puoi sempre fare anche questo rivestimento in in plastica questa pellicola protettiva se chi al servizio la fa bene viene fuori un ottimo lavoro rullo di tamburi squillano le trombe oramai tempo fa questo a parte questo me lo regalo così tempo fa sia io che mio figlio siamo andati a fare una serie televisiva the barbarians abbiamo partecipato in quanto comparse the barbarians fantastico vestiti da da romani con un'armatura che pesava però non posso ancora pubblicare le foto video non abbiamo fatti perché era forbidden siamo riusciti a fare un paio di foto che però purtroppo non le posso ancora quindi stay tuned che prossimamente penso che le dovrò mettere quando uscirà la serie televisiva che sarà su netflix e quindi quando uscirà la serie televisiva potrò anche mettere le fotografie che abbiamo fatto sul set cinematografico qui tra l'altro qui vicino a alvernia planet bene detto questo le ruote termiche ve l'ho detto la ruggine rivestimento ve l'ho detto per quanto riguarda ancora i pezzi di ricambio possibilità dalla russia con furore se va bene se vi mandano i pezzi dalla tarmot è la possibilità più pratica e insieme a quella della repubblica cieca oppure c'è un altro sito in polonia che ha parecchi pezzi della whats cioè a vedere c'è un tutto un'infinità di pezzi anche lì da della repubblica cieca c'è un'infinità di pezzi di ricambio che veramente dici no speriamo che non si rompa nulla perché tutto di tutto e di più del tutto pezzi che non sai neanche che ci siano io no non essendo meccanico che che spita è questa affare qua e quindi sono tantissimi pezzi di ricambio da ricambiare penso che rimetterò le tendine le avevo tolte no le avevo tolte ma penso che le rimetterò le volevo mettere una lunga qua così solo che se la metto qua con l'adesivo mi si stacca col calore poi si stacca allora l'avevo avvitate qua così che però non andava bene perché apri la porta ti trovi la tenda davanti invece almeno sul finestrino apri chiudi la tenda non dà fastidio adesso penso queste qui queste qua così che tengono e non sono niente male però non mi convincono molto quello che dovrei rifare sono i vetri oscurati che questi li avevo messi io ma mentre i vetri oscurati in una come questo qua no e non è facile è ancora meno da e ancora di meno di là dove il vetro rimane proprio è un casino visto lì mi manca un pezzettino le basi intuitive sulla mia visione della scuola queste sì mi possono dare dei nuovi parametri sia per un nuovo disegno d'educazione che nuovi parametri pedagogici questo sì ma per meccanica sì è vero ho cambiato la come si chiama la marmita della vespa ho cambiato la frizione che non sembra ma guarda che già ce ne va però ecco posso arrivare a poche cose insomma posso mettere l'acqua del tergicristallo no dico i miei livelli sono molto molto limitati ma me ne devo fare una colpa no c'è il meccanico c'è la macchina che si guasta alla porta dal meccanico se uno non è capace di fare il pane va dal panettiere ma che se non sei capace di farti la pizza o ti compri quelle sul gelato oppure vai in pizzeria ma che devi fare ma che vuoi no perché c'era qualcuno che non sei neanche capace di tenere un cacciavite in mano ma no il cacciavite sono capace di tenerlo e che magari non so bene in quali punti andare per usare il cacciavite capito torno a dire se io sono col meccanico per esempio abbiamo cambiato le ganasce della i funghetti questi funghetti con la coppetta lì di plastica che erano alla ruota cazzo è un lavorone incredibile adesso che ho visto un folento lo potrei anche fare al tempo quando avevo un appunto avevo cambiato le le pastiglie dei freni non ci vuole molto però per dire ci sono altre cose che se le vedi dopo le impari no guardando si impara altre cose non le conosci no che devi fare non le sai vai dal meccanico c'è il meccanico apposta se non mi dovrei mettere il tappetino qua a sdraiare la sotto no non è mi sbaglio da qualche parte mi arriva una sprangata l'albero a sapere no una cosa se magari avessi il garage con la trincea di sotto no che posso stare in piedi e guardare sotto il motore ecco che lì potrei dare le mie pennellate per rivestire e ricoprire affinché non arrivi la ruggine questo sì lo potrei fare ma insomma non avendo il garage non è questo lì è di spruzzo mascherina gli occhi gli occhiali insomma un casino dai dai bene questo è tutto signori vi presento la mia pelliccia che ho comprato su wish non compro più niente e 3x 3xl però è piccola allora la tengo lì per l'emergenza un'emergenza che magari che però non riesco ad abbottonarla no wish i wish the set questo il mio ultimo acquisto eccolo qua il bello qui in polonia ci sono questi negozi della roba usata second hand che tante volte trovi anche roba nuova anche di marca non so se penso che arrivino dall'inghilterra il trovato della giacca della bossa e camice della bossa anche roba nuova che magari sai magari o rimane o difettosa oppure va a sapere il mercato no i guanti gli scarponi da sci da qui partono e vanno in uganda l'uganda non arriva nulla perché però per dire la roba gira e devo dire che qua i negozi della roba usata guarda ho trovato questo bellissimo cucino no questo sacco a pelo ottimo sacco a pelo ce ne ho già però un sacco a pelo extra non fa mai male 6 euro circa 7 14 21 28 66 euro ma è ottimo controlli che non ci siano buchi che funzionano le cerniere trovi davvero della ottima roba magari le scarpe no nelle scarpe non ho visto della roba interessante però tra giacche quante io veramente potessi me le comprerei solo che non avevo spazio non ho più lo spazio dove mettere le giacche ne ho tantissime anche questo è stancato sta gonnellino adesso voglio mettere le tende di nuovo se lo ciao 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 ragazzi ciao 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 ciao